A Torre del Greco sono state registrate dal giorno 1 febbraio 60 guarigioni e 108 nuovi positivi al Covid-19. Sono quattro i soggetti passati dall'isolamento domiciliare al ricovero ospedaliero, mentre uno solo è stato dimesso ed è stato sottoposto all'isolamento domiciliare. Certificato un ulteriore decesso di un cittadino di classe 1961. Muta dunque il bilancio dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco. Sono 465 i cittadini posti in isolamento domiciliare, 25 ricoverati, 2760 guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 89 deceduti. Sono 169 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Torre Annunziata dal giorno 1 febbraio. Al contempo si registrano anche 60 cittadini guariti. Dichiarati inoltre due decessi. Sala 681 il numero dei cittadini di Torre Annunziata che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 673 i soggetti posti in isolamento domiciliare, 8 ricoverati, 1635 guariti e 34 deceduti. Sono 126 i cittadini di Castellammare di Stabio risultati positivi al Covid-19 dal giorno 1 febbraio. I guariti per lo stesso periodo sono 42. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città. Sono 3445 i contagiati totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 48 i cittadini deceduti.